Andare nello spazio ha acceso una luce sulla mia vita. Era come se avessi sempre vissuto nella penombra. Sembra quasi che la Terra risplenda. È così bella. Quando sono andato nello spazio, la prima cosa che ho voluto fare è stata togliere il mio casco, sganciarmi la cintura, galleggiare libero e andare al finestrino a vedere il mondo. Quello che abbiamo visto lassù, quello che di conseguenza abbiamo sentito nel cuore dopo un'esperienza così, va oltre l'immaginazione. È uno spettacolo sorprendentemente bello. Sei sopraffatto. Tu vorresti trovare parole nuove per descrivere l'emozione che stai provando? Perché ti parvade con molta forza. è una cosa che di solito gli occhi umani non vedono. È uno spettacolo sorprendente quindi è passato al estrui e che sono stato speciali there sudo. È uno spettacolo sorprendente.